Gromo è uno dei comuni a poter vantare il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club italiano per le località dell'entroterra, lo ricordiamo. Una volta all'anno giunge anche il momento di festeggiare la bandiera arancione. Sì, domenica 11 ottobre Gromo festeggia la sua bandiera arancione Touring Club italiano e lo fa con una giornata dedicata alle sue eccellenze sia turistiche, culturali e soprattutto enogastronomiche. Quindi ci saranno dislocati nel borgo, nel centro storico. Dalle 10 alle 18 troverete questi stand di prodotti tipici, prevalentemente a chilometro zero. E poi ci saranno anche delle attrattive culturali. Ci saranno visite guidate la mattina alle ore 11 e alle ore 15, visite guidate gratuite. E ci sarà l'apertura contemporanea dei due musei principali di Gromo che sono il Museo delle Armi e delle Pergamene e il Museo Parrocchiale. Nel pomeriggio, sicuramente da non perdere invece, ci sarà il concerto degli Aghi di Pino che è un gruppo musicale molto molto giovane che fa canti bergamaschi e non solo accompagnato da una castagnata e dal vin brulee che naturalmente sono dei sapori autunnali immancabili. Ci sarà poi alle ore 15 l'intitolazione di una nuova via a Tito Terzi, famosissimo fotografo delle nostre zone. E la conclusione dell'evento sarà intorno alle 18, quando daremo ai partecipanti un sacchetto di benvenuto per ringraziarli della loro partecipazione.